Giorgio Santeusani, un top player, come recita la maglietta di Settimana Sport, che tornerà a giocare dopo tanti anni con la James che si iscrive alla terza categoria? Sì, finalmente dopo tre anni siamo riusciti a fare la prima squadra e completare un percorso che ci voleva perché avendo tutto il settore giovanile era un peccato poi non avere una prima squadra e da domani partiamo e speriamo bene. E finalmente dopo aver avuto un bel settore giovanile la James con la fusione con la Virtus Granarola avrà anche una prima squadra. Esatto, esatto. Sei un top player, tu consideri ancora un top player dei calci elettantistico, hai giocato in tante squadre, Savona, Pegliese, Little Club, Virtus, insomma i tuoi ricordi più belli? I miei ricordi più belli? Sicuramente Pegliese con Barretto, l'anno di Barretto, Renon, Barozzi, Podestà, Cutica, ce ne sono tanti, Meazzi, Prestina. Hai giocato con grandi giocatori? Sì, sì. Poi l'anno del Little Club quando abbiamo vinto il campionato con Lodo Veroni, Fiandra in Porta, Mangini e Roberto Rega. Poi abbiamo fatto anche dei begli anni con Burlando e Carrozzeria Impero, poi ho dovuto smettere perché ho iniziato a fare l'allenatore dei ragazzi e ora ho questa possibilità. E poi hai fatto anche gli anni 50 con la Wisp, no? Esatto, esatto. Gli anni 50 con la Wisp, con Massimo Francioso e tutti i ragazzi che salutano tanto. Hai 43 anni? 43 anni, la voglia non manca. La voglia è come quella di quando ero ragazzino. Allora, Giorgio Santuzano, top player, insomma, pensi che hai ancora qualcosa da dare a calcio? Sì, ancora qualcosa da dare, ce l'ho. Allora, mandiamo un saluto a tutti gli amici del calcio. Ciao ragazzi, ci vediamo sui campi.